Sempre pronti, pronti in dieci minuti, abbiamo due squadre da otto persone fuori subito per intervenire con motopompe e tutti i mezzi, anche di notte al 100%. Silvio Palmieri è uno dei tanti volontari di protezione civile che rimarranno reperibili per tutta la notte. A Loria, così come in tanti comuni della marca, i centri operativi comunali sono attivi senza soluzione di continuità per monitorare l'evoluzione di questa ennesima ondata di maltempo con l'apertura dichiarata dal presidente Luca Zaia della sala operativa regionale. Quasi tutta la provincia ora rientra nell'allerta gialla per rischio idraulico, gialla e arancione sul fronte idrogeologico, che è poi quello più delicato, quindi bacini alto e basso piave, alto e basso brenta, bacchiglione e livenza tagliamento. Nell'ultima ondata di maltempo, poco più di una settimana fa, Loria era finita sott'acqua in diversi punti. Le aree maggiormente delicate in zona industriale, dove ci sono i magazzini comunali e sulla strada tra Ramon e Poggiana, inevitabilmente torna la paura. Abbiamo tanti campi che sono più alti rispetto alla sede stradale e quindi quando piove, quando ci sono queste piogge eccezionali, l'acqua confluisce tutta nelle strade e le strade poi si formano dei fossati veri e propri di fiumi in piena. Il problema dell'acqua non si è da adesso, è che se l'acqua viene tutta dai campi, dai campani che da sopra, viene tutta sopra e viene qua. Il monitoraggio è costante e nessuno, soprattutto in questi casi, può chiamarsi fuori. Bisognerebbe anche da parte dei privati che ci fosse anche un aiuto, chi ha il fossato privato, piuttosto di tagliare l'erba e buttarla dentro, diciamo di tenere pulito, tirarla fuori. Piccoli accorgimenti sì che vanno a tenere pulito i canali dove presso a poco sono anche tombinati sotto e quello più che altro è il problema di scarico delle acque. Ma c'è anche il capitolo delle opere. Nella frazione di Bessica l'osservato speciale è il Brenton, già esondato due volte nei mesi scorsi. Paratie e sacchi di sabbia sono già posizionati, per il sindaco però bisogna andare oltre l'emergenza. Siamo a chiedere agli enti competenti regionali e ai consorsi di bonifica la realizzazione, quanto prima, di una cassa di laminazione a nord dei nostri comuni. Sicuramente dobbiamo passare dagli studi ai fatti.